Sabato abbiamo fatto un'ottima prova contro una squadra di categoria superiore. Questa settimana possiamo ancora migliorare alcune cose in fase di non possesso, in fase di possesso balla, ma anche fisicamente. Quindi penso che arriveremo molto preparati per la mia partita di campionato. Abbiamo molto entusiasmo e molta voglia di partire subito bene. Beh, io in questi ultimi anni ho sempre giurato un po' davanti alla difesa. Il ruolo di mezzala sarebbe tra virgolette una novità, però ho iniziato dal primo giorno di ritiro a ricoprire quel ruolo. Mi sono trovato bene, mi impegno molto in qualunque posizione il mister mi metta. Quindi ho davanti la difesa o mezzala, darò sempre il mio 100%. Ma io per quei 3-4 mesi che sono stato a Sant'Arcangelo ho trovato un mister molto preparato, in cui mi sono trovato subito bene. Il modulo che sta operando è lo stesso che ho usato l'anno scorso, più o meno i movimenti e le giocate sono le stesse. Poi è normale che avendo giocatori come Pedrella, che possono fare anche gli esterni, potrà anche cambiare modulo. Ma il nostro modulo principale penso sia il 4-3-1-2 e daremo il massimo con questo modulo. Grazie.